I segnali sono sicuramente incoraggianti, quest'anno come già li abbiamo appresi l'anno scorso nel 2015, il settore immobiliare ha registrato un incremento dei volumi di investimenti in Italia e una maggiore attrattività per quanto riguarda i fondi internazionali che investono in Italia. Questo l'abbiamo registrato su vari comparti, logistica, uffici, retail e anche stanno iniziando comunque ad avvicinarsi al settore residenziale. Possiamo dire che dal settore asiatico dove noi siamo presenti con degli uffici in Cina stiamo riscontrando che c'è un forte interesse al settore alberghiero in Italia e le principali città italiane, quindi parliamo di Milano, Roma, Firenze, Venezia e questo diciamo che è un settore su cui i fondi internazionali asiatici stanno guardando in particolar modo. Poi abbiamo i fondi europei invece che sono interessati sempre ai mercati tradizionali che sono uffici retail, che sono i mercati che poi hanno dato sempre un impulso positivo al sistema Italia e non trascurirei la logistica, che è un settore che premia di più il livello di yield e di rendimenti ed è un mercato su cui si sta avendo molto interesse. Se parliamo di ostacoli, sicuramente il sistema bancario a livello di finanziamenti ancora frena un po' coloro che vogliono investire. Parlo non solo di investitori puri ma anche di utilizzatori finali che vorrebbero fare l'investimento però non sono seguiti molto dal sistema bancario. Sicuramente un allinearsi e quello che sono gli stand internazionali aiuta in tutti i settori come nel settore anche dei servizi immobiliari. Quindi sicuramente quello porta un beneficio e una miglior qualità anche nei servizi che si vanno ad erogare con The Comparable. Il 2016 noi vediamo comunque un incremento dei nostri volumi di fatturato in considerazione del fatto che stiamo potenziando molto la struttura non solo a Milano ma apriremo anche a Roma prima della fine dell'anno. Grazie a tutti.